alle elezioni regionali del 31 maggio vota Forza Italia, sceglie Lucia Tanti per dare forza alla città di Arezzo, per valorizzare le nostre vallate, i nostri comuni, il nostro territorio per mettere al centro chi lavora, chi si impegna, chi ci mette la faccia per dare un'opportunità ai giovani, ai talenti, alle eccellenze, agli artisti di questo territorio per fare una scelta di campo decisa a favore dei valori della vita, della famiglia, del volontariato per sfrattare il Presidente Rossi che in questi anni ci ha punito, ci ha mortificato, ci ha umiliato e quindi tornare veramente protagonisti in Toscana alle elezioni del 31 maggio vota Forza Italia, sceglie Lucia Tanti con Mugnai Presidente